Musica Bello a tutti ragazzi bentornati nel DART Channel Io sono DAPTUNICI e benvenuti in questo nuovo mini vlog Perché non stanno uscendo video? Allora ragazzi innanzitutto sono in macchina Quindi se sentirete qualche tremolio Capitemi perché Non sta questo coso che metà si regge Metà no Però vabbè questi qua sono dettagli Intanto sto andando con la luce accesa Sembro un coglione perché parlo da solo A un telefono Ma sono dettagli ragazzi Ma che ce ne frega a noi Comunque perché non stanno uscendo video? Perché il mio pc Ha deciso proprio con l'amore Con tutto il suo cuore ha deciso di dirmi Ma fa un culo Cioè si è rotto Non ho possibilità di Infatti non ho possibilità né di registrare Perché tutti i giochi ce l'ho sul pc E gli altri pc che ho E' un portatile scrauso Che non mi regge Minecraft Non mi regge niente Nulla Nulla di nulla Al massimo posso fare Facciamo così Se voi volete vi faccio un video Su My Little Pony Online Facciamo così Che forse quello me lo regge My Little Pony Online Quindi se voi mi dite Dark va bene Faccio un video su My Little Pony Online Io vi faccio il video su My Little Pony Online Comunque Il mio pc ha deciso di abbandonarmi Io adesso già ho provveduto a comprare i pezzi Per diciamo il prossimo pc Cioè il pc che vi farò Che vi devo fare Ovviamente appena fatto Faremo l'unboxing insieme Vi farò Vi farò Mettere l'elenco di tutti i pezzi Vi dirò ogni pezzo Che ci ho messo nel pc Così magari se ve lo volete fare Ve lo farete Quindi questo qua sarà comunque un pc Molto buono ragazzi Cui non dovrei avere neanche un problema Toglieremo tutti i problemi di lag Cose del genere Potremmo registrare tutti i giochi che vogliamo Quindi per ora ragazzi Capite mi sono totalmente bloccato Quindi non posso caricarvi Le video Nulla Cioè proprio Non posso stare neanche io su youtube Quindi Se non vi rispondo ai commenti Scusate Infatti sto video lo sto registrando Rapido rapido col telefono Mentre sto andando appunto A vedere in magazzino Che pezzi sono rimasti Cos'altro devo prendere Proprio perché Devo completare questo computer Il prima possibile Intanto mi stavo andando A bloccare davanti della macchina Ma no no Che ce frega ragazzi Tanto stiamo senza pc Non ho nulla Non ho nulla Non posso fare niente ragazzi Nulla Vi dispiace Fuori tantissimo Perché io vi avevo promesso Che Avrei fatto un video al giorno Tutti i giorni E Questo pc ragazzi Tra l'altro Sarà completo con tutti E ripeto Tutti i pezzi Voi indovinate quando? La settimana prossima Quindi Questa settimana State pur sicuri Ragazzi Che non Uscirà Neanche Neanche un video Quindi Neanche un video Per dire Uscirà questo vlog Poi se non sbaglio Avevo anche già precaricato Un video di Ryze Che probabilmente Devo vedere se riesco a far uscire Mo' controllo Perché se non sbaglio Un video L'ho precaricato Sì Il video di Ryze L'ho già caricato Quindi ragazzi Forse forse Uscirà anche il video Un video su Ryze Però non mi ricordo Lo controllerò appena starò a casa Quindi Usciranno questo vlog Magari se volete qualche Fuck you time Fatemi delle domande Volete che vi faccia un vlog Di cui parli di un qualcosa Ovviamente esclusa la politica Perché il nostro canale Non è un canale di politica Potremmo parlare di autorità Di religione Religione Oh Religione Oddio Però potremmo parlare Di ovviamente Tecnologie Informatica E cose del genere Comunque pc E cose così Quindi ragazzi Voi basta che me lo fate sapere Che cacchio stai facendo tu Vabbè Fatemelo sapere nei commenti Se volete anche Soprattutto il video Su Meritor Pony Online Io ve lo faccio Quindi ragazzi Io questo video Non sarà molto lungo Io ho fatto soprattutto Un video a scopo informativo Più che altro Perché non carico video Perché mi sembrava giusto Farvelo sapere Tanto qua comunque Devo Sto in una rotonda Scarica di gente Però dettagli Ok possiamo andare Inzacchiamoci Olè Quindi ragazzi Fatemi sapere se volete Altri video Come già vi ho detto Io vi ricordo Di mettere un bel pollice In su Iscrivere e commentare E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti